Tutto il bantierboso è stato predisposto per far giocare in contemporanea più gruppi di ragazzi. Questa porzione stanno giocando, dovevano venire anche i baby atleti della Virtus Lanciano, ma non so per quale motivo hanno declinato l'invito o c'è stato qualche problema. I genitori si sono posizionati anche da questo lato, le vecchie tribune del Nuovo, per assistere più da vicino all'esibizione dei loro pargoletti. Qua c'è il mister Matteo, qua c'è il mister Billy, qua c'è la mister della Valle Aventino. Da quest'altro lato pure stanno giocando fra di loro. Ovviamente siamo di più, manca la Virtus Lanciano, c'è il mister Annarita da questo lato, c'è il mister... Ah c'è anche il presidente e il segretario. Oh cavaliere!